Benvenuto in questo virtual tour, io sono Angelo Camilleri Addis, mister affitti Brianza e ti porto in visita in un immobile presentato dal manager dell'affitto Giuseppe Di Napoli. Ci troviamo a Paderno Dugnano in un trilocale arredato al secondo piano di una piccola parazzina e con un giardino di pertinenza di 130 metri quadri. Partiamo dalla zona esterna dove troviamo la porzione di giardino pertinente all'appartamento. Un'ampia zona da poter utilizzare a piacimento. Stabile esterno. Entriamo quindi nell'appartamento al secondo piano dove abbiamo un ingresso su un soggiorno luminoso e con parquet. Uscita su balcone con vista sul quartiere circostante. Un balcone molto grande con l'accesso alle altre stanze della casa. Aria condizionata inclusa. Ampia cucina abitabile. Un balcone con uscita su balcone. Passiamo quindi alla cameretta o studio con finestra armadiatura e scrivania già presenti oltre al letto singolo camera da letto matrimoniale con letto contenitore e armadio con ante scorreboli bagno dotato di vasca e postazione lavatrice ripostiglio per tutti i dettagli su questo immobile visita il sito l'inviate.soloaffitti.it per la cultura dell'affitto visita il blog misteraffittibrianza.com solo affitti affittare con sicurezza attenzione